Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 16 Napoli, Canosa dalle 22 di oggi alle 6 di domani chiude il tratto compreso tra Candela e Vallata verso Napoli. Sempre su questa arteria, ancora in fascia oraria 22.6, chiude lo svincolo Lacedonia in entrata in direzione Napoli. Sulla 3 Napoli, Salerno è attivo un restringimento di carreggiata sulla rampa che, provenendo da Napoli, mette sulla 1 Roma-Napoli. Sulla statale 7 Bis Terra di Lavoro, sino l'11 agosto è istituito un restringimento di carreggiata tra Villa Literno e Nola in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 166 Degli Alburni, per una frana è chiuso il tratto compreso tra Corleto, Monforte e San Rufo in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno, sino al 4 agosto è attivo un restringimento di carreggiata tra Salerno-Est e zona industriale in direzione Fratte. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza Servizio a cura di Acamir e Regione Campania